Il reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale policlinico della Federico II festeggia anche quest'anno l'epifania con la Befana dei Prematuri. Organizzata con l'Associazione Soccorso Rosa Azzurro, l'iniziativa ha visto la partecipazione del sindaco Luigi De Magistris, che accompagnato dal professor Francesco Raimondi ha fatto visita ai piccoli ricoverati del reparto. Quest'anno in questa struttura abbiamo registrato un aumento delle nascite a dispetto della denatalità, abbiamo quasi 100 nati in più. Questo rimane il centro di terapia intensiva neonatale forse con maggior volume di attività, il centro di diagnosi e cura delle infezioni per i natali e il posto dove c'è un programma assistenziale molto efficiente che raccoglie anche bambini da fuori regione che rischiano il danno neurologico nei primi anni di vita. Noi abbiamo dei numeri in aumento grazie forse principalmente alla dedizione totale delle infermiere e dei medici di questo reparto che va molto al di là della semplice competenza professionale. Fanno un lavoro molto importante, di grande competenza, professionalità e umanità. Sono tanti anni che vengo qui per la Befana del Prematuro e vedo come lavorano. Poi se ovviamente si costruisce una rete fatta dagli enti locali, il comune è sempre in prima linea, ma anche il privato sociale, le fondazioni, è ottimo perché si trovano anche risorse economiche aggiuntive, risorse umane. E' quello che Napoli sta facendo in questi anni, professionalità, cuore e squadra. Dopo la visita ai nati prematuri, nell'aula magna della Facoltà di Biotecnologie si è tenuta la festa dedicata ai bambini, con la partecipazione di Fatima Trotta e dei rappresentanti della Fondazione Cannavaro Ferrara che doneranno un'ambulanza per il trasporto neonatale di emergenza. Ripristiniamo questo progetto dopo 13 anni. 13 anni fa abbiamo comprato un'ambulanza che adesso si è fatta vecchia e ha bisogno di essere sostituita. Quindi la fondazione attraverso un evento importante che abbiamo avuto a dicembre ha raccolto fondi e adesso comprerà una nuova ambulanza che doneremo al reparto di terapia intensiva neonatale del secondo policlinico, il reparto diretto dal professore Raimondi. L'ambulanza è un dono che non viene fatto solo ai bambini di questa struttura ma ai bambini di tutta la regione perché è il mezzo con il quale il bambino che è già in difficoltà dai primi istanti di vita può raggiungere il punto nascita o meglio la terapia intensiva attrezzata. Anche se la mia personale raccomandazione a tutte le future mamme è quella di assicurarsi prima del parto delle condizioni di assistenza neonatale di serenità.